La prima vera attuazione della legge regionale denominata Abruzzo Regione del Benessere si concretizza a Teramo con una tre giorni dedicata all'alimentazione dal punto di vista della salute. In programma da venerdì 17 a domenica 19 settembre l'evento si svolgerà nella splendida cornice del corso di Porta Romana nel centro storico della città di Teramo. Primo firmatario della legge regionale l'assessore Pietro Quaresimale. L'obiettivo è quello di caratterizzare la nostra regione rispetto alle altre, quindi nella scelta del turista noi vogliamo dare un impulso al nostro bellissimo territorio. Quindi è una legge che valorizza i nostri beni, la nostra alimentazione, il viver sano che c'è in Abruzzo e quindi vogliamo riscoprire le nostre tradizioni. Sicuramente è una legge importante che oggi presenteremo uno dei primi eventi che va a concretizzare questa iniziativa perché molte volte si lanciano delle idee che però rimangono un po' aleatorie. Invece con questo evento diamo attuazione a questi principi enunciati in questa legge. Monti, mare, campagna e cortile, i capisaldi su cui si declineranno gli assaggi culinari che saranno proposti e che si potranno degustare in occasione della manifestazione ideata in attuazione del progetto Abruzzo Regione del Benessere in collaborazione con l'Associazione Culturale e Gastronomica Porta Romana Bella. Chi parteciperà a questa fiera avrà modo di conoscere buona parte delle aziende che producono prodotti bio che oggi si sa per il mercato è determinante, ma soprattutto questa iniziativa nasce da parte della Regione nella persona dell'assessore Pietro Quaresimale per promuovere quello che è un grande risultato della Regione Abruzzo che è risultata la quinta Regione al mondo per la qualità della vita. E allora non si è persa occasione appunto di poter organizzare eventi laddove tutte le aziende che producono prodotti di qualità, prodotti bio, avranno modo di esibire i loro prodotti qui a Porta Romana. Quindi cosa si assaggerà? Le tematiche sono quattro, il cortile attraverso il tacchino lacanzanese, i pole, poi c'è l'orto, c'è la montagna e c'è il mare. Avremo l'opportunità di ospitare i pescatori, la cooperativa dei pescatori di Martinsicuro, avremo a disposizione anche una piccola lampara dove si potrà parlare con i pescatori e il loro metodo di pesca del pesce azzurro. Prestigiosi partner della prima fiera Mercato del Beneessere, l'Art Abruzzo e l'Università di Teramo.